Buonasera, buonasera da Onda di Gimbreo Piano, subito la politica con le elezioni amministrative. Cominciamo da Introdacqua dopo la lunga tornata elettorale e lo scrutinio nel pomeriggio, Introdacqua che punta sui giovani, il campanile, la lista storica vince ancora, Cristian Colasant, eletto sindaco a 28 anni. Vediamo tutto nel nostro servizio. Trionfa la lista il campanile ad Introdacqua, come la tradizione avrebbe da dire, visto che non si riesce a spezzare una continuità che affonda le radici in epoche lontane. La forbice tra il candidato Cristian Colasant e i suoi competitor, Licia Mampieri e Salvatore Sposito, è persa subito ampia e consolidata. Colasant, già assessore e consigliere di maggioranza della precedente amministrazione, viene eletto sindaco alla sua età di 28 anni. La sua lista ha ottenuto 758 preferenze contro i 321 voti portati a casa da Legalità per Introdacqua, che ha candidato sindaco Salvatore Sposito e i 188 della torre Introdacqua per un futuro migliore, con Licia Mampieri, candidato sindaco. Si chiude la campagna elettorale, in piazza iniziano i festeggiamenti, sul carro del campanile recuperato e rimesso in auge per l'occasione. Tifo da stadio, tanto entusiasmo, accompagnano il momento di festa, ma veniamo ai numeri. La lista di Colasant è ottenuto 758 voti, in consiglio comunale conquista 8 seggi, compreso lo scrano più alto da sindaco. Eletti come consiglieri Carla Di Benedetto, prima eletta con 184 voti, a lei potrebbe andare la fascia da vicesindaco salvo sorprese. Seguono a ruota Giuseppe Zuffada, 155 voti, Ernesto De Santis, 90, Toni Silvestri, 78, Maurizio D'Angelo, 67, Massimiliano Pelino, 53 e Mario Di Pietro, 47. Due seggi saranno invece assegnati a Legalità per Introdacqua, di cui uno al candidato sindaco non eletto, Salvatore Sposito, e l'altro a Livio Susi, primo degli eletti nella lista. Un seggio spetta anche a Licia Mampieri della Torre, candidata sindaca non eletta. Introdacqua quindi un sindaco giovane per un paese che deve affrontare grandi criticità, fra cui la situazione economico-finanziaria. Da dove cominciare? Riesco a rendermi conto di quello che è successo in questo momento a Introdacqua. Una cosa inaspettata. Sono emozionato. Non vedo l'ora di mettermi subito a lavoro per la mia Introdacqua. Loro mi hanno dato tanto e io darò tanto per loro. Questo sia chiaro. Hai già in mente la squadra perché a 28 anni mettere mano ai grandi problemi. Non so nemmeno chi sta dentro con me e chi sta fuori perché sono così preso dall'emozione che ancora mi rendo conto di quello che è successo dentro le urne. La vittoria dell'intero paese. Vorrei abbracciare tutti quanti per l'emozione. E' veramente una vittoria importantissima e da domani mattina noi inizieremo già a lavorare per il nostro paese e per tutte quelle persone che ci hanno dato la fiducia. Siamo emozionatissimi e siamo carichi, carichi, carichi. Oggi sul carro dei vincitori e domani? Sul banco del comune. E quanto hanno detto il neosindaco Colasante e la consigliera di Benedetto prima di aprire le danze. Epa Centro sceglie ancora Guido Angelilli. Il passato è morto, ha esordito il riconfermato sindaco e poi subito è scoppiata la festa, il nostro servizio. Il passato è morto, l'abbiamo annientato definitivamente e Pacentro potrà essere solo migliore di quello che è adesso. Queste le prime parole di Guido Angelilli, rieletto sindaco di Pacentro, con 473 preferenze. Niente da fare per il suo sfidante, Fernando Caparzo, che si è fermato a 420. Una sfida entusiasmante in linea con le previsioni. Angelilli ha vinto con 53 voti di scarto. Una competizione elettorale che sarà sin dai primi momenti al centro dei riflettori. E seppur nei piccoli comuni è facile pensare a una continuità amministrativa, per Angelilli la vittoria starà tutt'altro che scontata. Fra cori e applausi il sindaco è stato accolto nel seggio elettorale prima della festa in piazza. Sono contento perché da qui in poi Pacentro c'è soltanto un futuro luminoso. Perché io farò questo secondo mandato, ma poi finalmente le persone vecchie stanno anche se ne stanno a casa. Io tra cinque anni starò a casa. L'auspicio per questo paese è che possa continuare ad andare avanti così come ha fatto in questi cinque anni. Io ce la metterò tutta. La squadra nuova, che è nuova e vecchia in realtà perché siamo misti, sicuramente ce la metterà ancora più di più di me. E sarà un grande lustro, un grande lustro. Veramente luminoso. Così ha concluso Angelilli non senza fare un passaggio. Su una campagna elettorale segnata anche da polemiche e tensioni che entra ormai negli annali. Io ho detto più volte che questa campagna è stata secondo me viziata perché sono state delle affermazioni nei miei confronti assolutamente pesanti e non veritiere. Però ci sta, in campagna elettorale lo sappiamo che ci sta. Io non ho problemi con nessuno, non li avrò nemmeno in futuro. Il paese deve restare unito, riunirsi perché sicuramente qualche credine ci sta. Ho sempre dimostrato in passato di non servare rancore, non lo servo neanche adesso. Però quando le regole di gioco sono quelle e quindi poi non si può piangere quando sul ring uno si biavano schiaffo. Insomma perché non li posso prendere sempre soltanto io. Ogni tanto li devo anche dare e che qualcuno l'ho dato stavolta. Fra poco torneremo a parlare delle elezioni amministrative con la festa in piazza, le reazioni, gli auguri, le raccomandazioni anche dei cittadini. Tutto questo fra poco perché ora dobbiamo parlare invece delle elezioni europee con il dato definitivo a Sulmona dove la Lega si impone e dilaga, sorpresa PD che risale. Facciamo il punto nel nostro servizio. La Lega si impone e dilaga, il Movimento 5 Stelle resiste, il PD risale e questa è la fotografia da scattare per la primissima analisi del voto al termine dello scrutinio delle elezioni europee. A Sulmona le operazioni elettorali sono chiuse intorno alle 4.30 con la comunicazione dei dati definitivi alla Prefettura dell'Aquila. L'ultima sezione a consegnare il plico a Palazzo San Francesco è stata la 18, ubicata nella scuola media Capograssi. La Lega si conferme primo partito, questa volta sia in termini assoluti che percentuali, incassando ben 3.179 preferenze, oltre 300 in più di quelle ottenute lo scorso mese di febbraio nelle consultazioni regionali. Il Movimento 5 Stelle non crolla e si piazza secondo, a differenza di quanto avvenuto a livello nazionale, porta a casa 1.995 voti, appena 18 in più del PD che resta la vera sorpresa di questa tornata elettorale anche a livello locale. I dem in città risalgono alla grande con 1.977 preferenze, trascinati soprattutto dal Movimento Solitarie Popolari che fa capo all'ex consigliere comunale Mimmo Di Benedetto. La conta dei voti riguardo le preferenze in casa PD premia proprio Di Benedetto che si è affidato all'Andrea Cozzolino, 363 voti, e Leila, 365 voti. Non male il risultato ottenuto dai dimasciani, che però, avendo lanciato la sfida interna per la nuova era del PD, non possono dirsi pienamente soddisfatti. Giuseppina Picerno ha incassato 273 preferenze, Giuseppe Ferrandino, 195 voti. L'ex consigliere comunale si aggiudica quindi il derby in casa PD, ma per il rilancio di un partito è chiaro che serve manforte da parte di tutte le forze, anziché condurre lotta interne. Dimasci però dovrebbe avere altri progetti, visto che ha annunciato le dimissioni dal partito all'indomani della competizione elettorale. Esultano anche le altre forze di centrodestra. Forza Italia incassa 837 preferenze, Fratelli d'Italia si ferma a 694, ma in chiave europea è un risultato più che accettabile, visto che il partito della Meloni non faceva parte del Parlamento europeo. Il risultato sul Monese incide in piccolissima parte, sullo scacchiere nazionale, ma è sicuramente indicativo per chi d'ora in avanti deve riorganizzarsi per affrontare le prossime sfide politiche, forse non troppo lontane. Il ritorno del PD, come avete sentito, è la personalizzazione del risultato, una diatriba tutta interna che va avanti anche con l'analisi del voto. Il nostro servizio. Un importante passo in avanti che ci porta a credere che il progetto messo in piedi e le passate regionali possa continuare a camminare verso l'unico obiettivo che ci siamo posti, dare risposta alle esigenze delle persone, anche attraverso la ricostruzione di un partito, il PD, unito e scevro da logiche divisorie, perché senza un progetto condiviso e partecipato l'impegno sarebbe vanificato e soddisfatto, Mimo Di Benedetto e con lui coloro che si sono schierati a favore dell'idea del rinnovamento del centro-sinistra, all'indomani dei risultati elettorali ottenuti a livello locale e nazionale dal PD, che si pone ora come alternativa allo schieramento sovranista e populista. Dopo il voto di ieri andiamo avanti, dunque, con ancora maggior forza, nel processo del rinnovamento del partito e della nostra città. Quello che ci fa besperare è che finalmente, sebbene ci sia ancora molto da fare, a Sumona non si ha voglia più di rinchiudersi nel proprio fortino, pensando che così ci si difenda meglio dai nemici, soprattutto quelli immaginari che hanno affollato la mente di alcuni esponenti dell'ex classe dirigente del partito. E' questo ciò che percepiamo, parlando quotidianamente con gli elettori del centro-sinistra che non vogliono più accettare la deriva in cui il PD del capologo Peligno stava andando, soprattutto per una conduzione autoritaria e personalistica di pochi, di un partito che invece, per sua natura, è inclusivo e plurale. Da qui l'invito alla dirigenza DEM provinciale e regionale affinché in linea con quanto messo già in campo da segretario nazionale Zingaretti ponga attenzione per agevolare la revitalizzazione di un partito che possa esprimere un'idea di rilancio per la nostra città e l'intero territorio. Ma l'analisi del voto non risparmia di sapori e polemiche, soprattutto per la personalizzazione dei voti di preferenza, sfida lanciata tra i dimasciani persa sui nomi indicati ma sono proprio i tre consiglieri iscritti al PD in quest'era a rivendicare merito del risultato ottenuto da partito. Si viene a precisare, scrivono in una nota, che tale esito è stato conseguito grazie al lavoro meticoloso del gruppo effettuato in campagna elettorale pur considerando le difficoltà riscontrate a causa dell'indebito commissariamento del circolo di Sulmona. Attraverso l'impegno profuso sono stati raddoppiati i voti ricevuti dal PD rispetto alle passate elezioni regionali a prescindere dalle singole preferenze espresse dai singoli consiglieri Roberti, Gentile, Ferrandino, Picerno e dalla minoranza civica. Non si può non evidenziare il dato del consistente voto espresso esclusivamente al simbolo del PD e quindi all'azione complessiva del gruppo. Il consigliere comunale Fabio Ranalli in qualità di avvocato ha infatti espresso la preferenza per Franco Roberti ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A tal proposito ci preme ricordare che le percentuali del voto di Sulmona sono pari a 21%, risultato questo al di sopra della media regionale e provinciale. La diatriba, anche se indirettamente, continua e questo fa male solo al PD. Il raddoppio dei voti passa quasi in secondo piano. E ora l'affluenza di questa lunga tornata elettorale crolla a Sulmona e in Abruzzo per quanto riguarda le elezioni europee. Per le amministrative introdacqua, batte pacentro. Facciamo il punto nel nostro servizio. Abruzzo e provincia dell'Aquila incontro tendenza rispetto al trend nazionale e non in positivo. Crolla l'affluenza alle urne per le elezioni europee. Il dato nazionale si è fermato al 53,03%, quasi tre punti al di sotto delle precedenti consultazioni. Per quanto riguarda l'Abruzzo, la percentuale è del 48,13, ben 12 punti al di sotto delle elezioni europee 2014. In provincia dell'Aquila il dato si attesta intorno al 47,47% e Sulmona porta la bandiera della diserzione. In città hanno votato 9.635 elettori pari al 44,72%, 10 punti percentuali in meno rispetto alla passata competizione elettorale. Nel 2014 l'affluenza si attestava intorno al 54%. Se è vero che le elezioni europee erano abbinate alle regionali, diranno ben due le giornate di voto, anche a Sulmona il crollo dell'affluenza è sotto gli occhi di tutti. Un calo vertiginoso che si è manifestato maggiormente nei quartieri del centro storico, stando ai dati definitivi di Palazzo San Francesco. Diverso il discorso per le elezioni amministrative. Alle ore 23 di ieri l'affluenza nei sette comuni aquilani interessati dalle elezioni comunali è del 69,07%. Nel dettaglio Capistrello 74,63%, Intro d'acqua 64,94%, Pacentro 49,70%, San Pio delle Camere 56,10%, Santo Stefano di Sessanio 54,25% e Trasacco 75,21%. Significa di voi il dato l'introdacqua che ha superato l'affluenza delle passate elezioni comunali nel 2015 quando andarono al voto il 61,11% degli aventi diritto. La cronaca fotografa la scheda in cabina elettorale denunciato un 74enne dai carabinieri della compagnia di Popoli. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Scatta una foto con lo smartphone alla scheda elettorale per le amministrative ma viene sorpreso la presidente di Sessio denunciato dai carabinieri della compagnia di Popoli coordinata dal capitano Giovanni Savini. Nei guai ieri a Caramanico Termene e Pescarese è finito un uomo di 74 anni. L'attenzione dei componenti del Sessio è stata richiamata dal click del cellulare e a quel punto il presidente nella veste di pubblico ufficiale ha chiesto l'intervento del 112 in servizio nella scuola dove era allestito il Sessio. L'uomo ha quindi consegnato il telefono ai militari dell'arma della compagnia di Popoli che lo hanno deferito e è stato di libertà all'autorità giudiziaria. Il dispositivo è stato posto sotto sequestro. Fotografare la scheda elettorale con sopra indicata la preferenza utilizzando lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo che consente di fare foto è vietalo dalla legge. Il problema principale della foto alla scheda è che si può essere accusati di voto riscambio. Ora la cronaca ci riporta Sulmona fuori strada con l'auto ma esce il leso rocambolesco incidente in via Ancinale vediamo nel nostro servizio. Esce fuori strada con l'auto e finisce in un terreno oltre il canale Enriguo il rocambolesco incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Ancinale nella strada che collega Sulmona a Pacentro un incidente a senso unico che fortunatamente non ha recato alcuna conseguenza un giovane del posto che era alla guida della sua panda Il conducente dove aver perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare è uscito il leso dall'abitacolo L'incidente però rimette al centro dell'attenzione la strada di via Ancinale che versa nel completo degrado e abbandono almeno nel tratto dove è avvenuto il sinistro con la vegetazione alta e incolta nei pressi del canale Enriguo una situazione già denunciata a suo tempo dai residenti della zona A complicare la viabilità fra le altre cose ci si è messo anche il maltempo con la pioggia battente che ieri non ha dato tregua e ha reso viscido l'asfalto A proposito di viabilità parliamo anche del sottopasso Tratturo a Sulmona ad alta pericolosità gli automobilisti sono sul piede di guerra Semaforo spento sottopasso infrantumi rischio incidenti gli automobilisti alzano la voce per denunciare lo stato di abbandono del sottopasso ferroviario di via Tratturo dalmeno sette mesi l'impianto semaforico risulta non funzionante e va da sé che cresce il rischio di incidenti il passaggio sotto il ponte della ferrovia è abbastanza stretto e per evitare scontri sinistri è indispensabile per le auto passare a senso unico alternato una condizione assicurata solo dal funzionamento del semaforo il fatto che il semaforo sia spento porta invece molti automobilisti a non rispettare nessun senso unico alternato a passare ognuno senza rallentare senza vedere bene chi viene dall'altro senso di marcia rilevano gli automobilisti che hanno segnalato l'inconveniente e fanno appello all'assessore ai lavori pubblici Maurotti Di Macco perché intervenga come già avvenuto nelle settimane scorse per ripristinare il funzionamento del semaforo e anche sui social impazza la polemica guardate qui che traffico che abbiamo naturalmente questo bondicello io penso che sia diventato un problema abbastanza serio ma è un problema abbastanza serio soprattutto perché ci manca il semaforo da come potete vedere la gente molti suonano quelli più guardate guardate come si incontrano le macchine intanto proprio nei giorni scorsi un camion evidentemente senza rallentare passare con prudenza ha urtato il lato del sottopasso mandandolo in pezzi ora l'edilizia scolastica con l'istituto Masciangio lì le firme aumentano ma la trattativa non si chiude vediamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio centinaia di firme che si vanno ad aggiungere alle oltre 700 raccolte in formato cartaceo per chiedere l'apertura del cantiere nella scuola primaria Luciana Masciangio gli interventi immediati per la conservazione della struttura ha sortito gli effetti sperati la petizione dell'associazione Iammomò che con il banchetto all'estilo sotto i portici della chiesa della trinità ha coinvolto la cittadinanza fra i sostenitori della causa c'è anche il vescovo di Smunavalva Michele Fusco sono state centinaia e centinaia le persone che non solo si sono fermate a firmare la petizione a parlare con i soci di Iammomò e offrire il loro contributo al fine di sostenerci nell'iniziativa trasferendo alle istituzioni competenti tutto il disappunto possibile per un grande problema lasciato nell'oblio ma si sono dette anche e soprattutto disponibili a non lasciarci soli nelle investiture future siano esse culturali che sociali spiegano dall'associazione che sabato prossimo replicherà l'iniziativa e intanto la trattativa traditta e comune resta ancora aperta i famosi 20 giorni annunciati in consiglio sono ormai decorsi ma ancora si arriva a trovare la quadra l'impresa ha chiesto una variazione di costi visto che la giudicazione dell'appalto risale a tre anni fa ma da Palazzo San Francesco dopo la fumata nera di tre settimane fa non hanno ancora fatto alcun passo in avanti e nel frattempo la scuola resta abbandonata a se stessa con il cancello del cortile retrostante completamente aperto come rilevato durante il blitz di Rossella del Monde figlia della Masciangeli e l'inchiesta nottetempo di Onda Tg i residenti della zona hanno segnalato la presenza di alcuni senza tetto durante le ore notturne l'obiettivo è quello di inaugurare il cantiere per risolvere anche il problema di conservazione della struttura ma i giorni continuano a passare quella dell'istituto Masciangeli in una complessa vicenda arenata sia a seguito di articolati contenziosi davanti al Tare e al Consiglio di Stato che hanno allungato i tempi per l'inizio degli interventi di ristrutturazione sismica le vertenze sono state superate positivamente per il Comune con l'autorizzazione sismica ottenuta lo scorso 14 febbraio dal Genio Civile grazie all'ex vice sindaco Nicola Angelucci l'importo dei lavori è pari a 3 milioni 814 mila euro finalizzati a riconsegnare alla città una scuola sicura con coefficiente sismico di miglioramento 088 un istituto storico al quale la cittadinanza è molto legata sul quale vi sono le attenzioni della sovrintendenza torniamo sulle rette degli asili nido dalla stangata ai rimborsi da oggi si possono presentare le domande sentiamo tutto nel nostro servizio dopo la stangata si passa ai rimborsi è possibile presentare da oggi 27 maggio fino al prossimo 10 giugno 2019 la domanda per il rimborso spese delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza nell'asilo nido comunale 2018-2019 a valere sui fondi regionali rilancio piani di sviluppo servizi educativi prima infanzia alle famiglie con un reddito ISE fino a 8 mila euro sarà rimborsata la spesa totale sostenuta per il pagamento delle tariffe il contributo sarà ripartito secondo la percentuale indicata in considerazione della collocazione nelle fasce di reddito e quindi assegnato in misura uguale tra i richiedenti ammessi da 8 mila euro a 15 mila euro il 40% da 15 mila euro a 28 mila euro il 30% da 28 mila euro a 34 mila euro il 20% oltre 34 mila euro in mancanza di certificazione ISE o residenti fuori comune il 10% la compartecipazione verrà erogata in un'unica tranche entro il 31 agosto 2019 l'avviso è pubblicato sull'albopretorio del sito web istituzionale del comune di Sulmona le domande potranno essere presentate a mezzo PEC protocollo chiocciolapec.comune.sulmona.acu.it o consegnate a mano all'ufficio protocollo del comune di Sulmona in via Mazzara 22 e torniamo a parlare delle elezioni amministrative entro d'acqua e a Pacentro dalla festa alle aspettative perché si sa che il popolo è sovrano ed è proprio la piazza a chiamare diciamo così i neo eletti sentiamo nella nostra raccolta di opinioni stemperare toni di una campagna elettorale tesa e accesa realizzare quanto annunciato nel programma elettorale mettersi subito al lavoro queste le primissime raccomandazioni che arrivano dalle piazze principali di Pacentro entro d'acqua qualche ora dopo l'elezione dei rispettivi sindaci a Pacentro tutto il paese è in festa c'è chi si mette in fila per abbracciare Guido Angelilli riconfermato sindaco dopo la tornata elettorale pacche sulle spalle abbracci liberatori che bruciano una lunghissima tensione gli auguri per i prossimi cinque anni di mandato l'auspicio per i pacentrani almeno per i sostenitori è che Angelilli prosegui sulla strada tracciata nell'ultimo quinquennio devo solo ringraziare gli amici che l'hanno portato sopra perché se le merda l'unica cosa è che se le merda allora il nuovo sindaco cosa dovrà fare? una raccomandazione un augurio? il sindaco farà quello che ha detto nel programma quindi si continuerà tutto il lavoro quello è importante allora un augurio a Guido Angelilli io sono stato il collaboratore numero uno sono contento così si cambia ancora di più il comune che cosa dovrà fare? dovrà continuare a fare? continuo a fare quello che ha fatto ha fatto bene e continuerà a fare bene c'è grande soddisfazione? sì c'è grande soddisfazione ma soprattutto la soddisfazione non è nostra ma è del paese perché questo significa che andremo avanti come siamo andati avanti in questi cinque anni e non torneremo indietro questo senz'altro l'emozione è forte ed è grande nonostante tutto il lavoro fatto nei cinque anni che è stato proprio grande la popolazione tutta doveva essere dalla nostra parte però non fa niente l'importante è che abbiamo vinto che abbiamo vinto con dignità con serietà perché noi abbiamo fatto una campagna elettorale nella trasparenza senza far pressione su nessuno chiedendo i voti onestamente non manca qualche reminiscenza di una campagna elettorale a tratti molto animata e essere tu il candidato è quello che si dice ma in realtà io la mia disponibilità non l'avevo data mai però era il nome caldeggiato ed è stato detto che purtroppo io non ho avuto la capacità di mettere insieme una lista io non ci ho nemmeno provato perché probabilmente se ci avessi provato non stavamo qui adesso e la campagna elettorale avrebbe preso sicuramente una piega diversa quella che ti posso dire è che sul palco durante i comizi sono state offese le famiglie sono state offese le aziende e le persone sono state veramente messe alla berdina quindi adesso pacentro all'amministrazione ovviamente che ha voluto che ha votato a loro faccio comunque i miei migliori auguri e vedremo che cosa succederà ma nonostante tutto arrivano gli auguri ai noi eletti anche se gli avversari si tolgono qualche sassolino dalla scarpa entro d'acqua clima più disteso con i vesteggiamenti che sono cominciati subito dopo l'ultima scheda scrutinata il caro del campanile ha fatto il giro del paese passando per vicoli e quartieri e non mancano selfie e foto di rito gli sconfitti della tornata elettorale sfidano i nuovi amministratori pensando già a un nuovo periodo di commissariamento le tante domande e perplessità lasciano spazio però all'euforia dei vesteggiamenti e di chi prova in un modo in un altro a metterci la faccia i veterani e i personaggi storici del paese dispensano anche qualche consiglio eh sì è un grande augurio a Cristian sono contento per lui e per questa grande vittoria l'augurio al nuovo sindaco di fare un buon lavoro perché è giovane quindi anche se manca di esperienza però può fare sicuramente un buon lavoro in bocca al lupo data la situazione speriamo che tutto vada per il verso giusto e cerchiamo di recuperare il terreno perso lavora bene e sei sempre forte Cristian un buon lavoro e sarai un bravo sindaco e ora parliamo invece delle tradizioni longeve come la Sagra delle Ciliegie di Raiano Barbara delle Monche 64esima edizione per la maggiorata Sagra delle Ciliegie organizzata a Raiano dall'associazione culturale Raiano Eventi in collaborazione con il Comune affonda le radici nella migliore tradizione culturale e folcolistica abruzzese ma si è rinnovata nel tempo proponendo la Notte Rosso Ciliegia evento di richiamo in vista dell'estate in Valle Peligna e il concorso Balconi Fioriti giunto alla quinta edizione dal 7 al 9 giugno prossimi artisti di strada stand gastronomici mostre e concorsi animeranno il paese venerdì 7 giugno alle 19 apertura degli stand gastronomici alle 21 concerto di chitarre sabato 8 giugno dalle 20 alle 4 la Notte Rosso Ciliegia con artisti di strada e band musicale e a luna di notte Provenzano DJ domenica 9 giugno alle 9 apertura della 15esima Fiera dell'Agro Alimentare alle 15.30 sfilata di carri allegorici e costumi tipici alle 17.45 esibizione del coro Fonte Vetica di Castel del Monte alle 22 esibizione di Marco Marzocca durante le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno sarà disponibile il servizio navetta per le remo di San Venanzio lungo il fiume Aterno nella riserva naturale guidata a gole di San Venanzio e anche questa sera abbiamo la nostra Buona Notizia un viaggio in treno d'epoca per riscoprire paesaggi incontaminati e suggestivi centri dell'Abruzzo interno unendo al fascino dei paesaggi naturali i sapori di prodotti tipici della gastronomia nostrana è stata una giornata intensa purtroppo caratterizzata dalla pioggia che ha accompagnato l'intero viaggio quella organizzata dalla condotta Peligna di Slow Food e dalla condotta di Slow Food Abruzzo presieduta da Eliodoro Dorazio e dell'Associazione Le Rotaie che durante tutto l'anno promuove viaggi in treni d'epoca per valorizzare una linea chiusa dal 2011 puntando a una sua valorizzazione turistica partendo ieri mattina alle 9 da Sulmona la Transiberiana d'Italia è salita fino a Roccaraso tornando a Valle nel tardo pomeriggio a Palena la prima fermata con la degustazione della ventricina del Bastese e dell'olio di Intosso altra sosta Roccaraso con salumi e prodotti caseari dell'Alto Sangre di Anversa degli Abruzzi presentati dall'Istituto Alberghiero ed è così che il treno storico sul Monacarpinone si conferma un grande veicolo per l'indotto economico turistico e turistico Allora lo sport con l'atletica leggera perché si tirano le somme di un altro weekend all'insegna del successo Domenico per la società sulmonese sono scesi in campo ben 58 giovani atleti e tra loro sono riusciti ad ottenere l'accesso ai campionati italiani allievi gli ostacolisti Remo Palazzone e Lucia Santucci che sabato hanno centrato il minimo obiettivo che invece non è stato ottenuto per poco da Daniele Silvestri che impegnato nella seconda giornata di domenica nella gara di 400 ostacoli è arrivato secondo dietro Dimitri Di Muzio della Polisportia Morise Campobasso con il tempo di 59 secondi 89 quando il minimo era di 59 e 44 non riuscendo così a qualificarsi per soli 45 centesimi un vero peccato per il bravo atleta Peligno ma per lui le possibilità di partecipare ai campionati italiani non finiscono qui in quanto tenterà la qualificazione in qualche altra gara nelle prossime settimane l'amatore Serafini si è classificata terza nella categoria delle allieve e quarta negli allievi insieme alle migliori società abruzzesi abbiamo partecipato con un bel numero di atleti commenta il presidente Gino Carrozza a dimostrazione della crescita del movimento giovanile dell'atletica con ragazzi di Sulmona e del circondario che nelle due giornate hanno dato il meglio di loro stessi per ben figurare siamo soddisfatti perché abbiamo creato un gruppo compatto sia negli allievi che nei cadetti che fa ben sperare per il futuro grazie a Gino e Mimmo Carrozza e all'infaticabile Annelise Canol la città di Sulmona si pone sempre all'avanguardia nell'atletica leggera l'ottimo lavoro viene premiato dalla FIDAL con l'assegnazione all'amatore Serafini degli eventi di punta di questa disciplina come i campionati di società allievi e cadetti dello scorso weekend e la prima prova della fase regionale dei campionati di società assoluti svoltasi l'11 e il 12 maggio pur non essendoci quest'anno a Sulmona eventi di caratura nazionale il livello sulla pista dello stadio Nicola Serafini si mantiene ottimo con i migliori atleti abruzzesi che per accedere ai campionati italiani devono passare prima per il capologo Peligno la gioia è ancora più immensa quando sono ragazzi del posto ad affermarsi al meglio nella loro città come è avvenuto per Remo Palazzone e Lucia Santucci rispettivamente al secondo e primo anno allievi che hanno raggiunto proprio a Sulmona la qualificazione agli italiani allievi per loro comincia ora la preparazione all'importante appuntamento in programma ad Agropoli nella provincia di Salerno dal 21 al 23 giugno per Lucia Santucci sarà la seconda esperienza consecutiva a livello nazionale dopo alcuni mesi dei campionati italiani cadetti dello scorso ottobre a Rieti vai 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 e chiudiamo con lo dico al TG domande e segnalazioni e curiosità sulle notizie del giorno e non solo che peschiamo sulla pagina Facebook di Onda TV con la diretta live di Onda TV ovviamente tanti commenti molti arrivati nel finale li auguri a Guido Angelilli e a Cristian Colasanti rispettivamente sindaci di Pacentro e Introdacqua e poi quel ponticello è davvero pericoloso grazie a Onda TV che è sempre attenta ai risaggi dei cittadini e questo ci fa piacere quella strada quando piove questo è il commento credo che si riferisca a Via Ancinale ha un asfalto molto scivoloso che ha provocato tanti incidenti e poi come al solito a Sulmona disertano da anni il voto e poi si sentono in diritto di criticare quindi sull'affluenza ci sono dei commenti e credo ecco anche sulla personalizzazione del voto del PD credo che a Sulmona non hanno votato il PD ma a Mimmo Di Benedetto che ha fatto da traino voti si legge in un altro commento continuate a scriverci sui social io vi ricordo dopo di noi Abruzzo Notizia e il punto alle 22 non perdete l'appuntamento di convivere la vita bene davvero tutto per questa edizione Onda Rigi torna domani grazie per essere rimasti con noi a tutti una buona serata grazie per la visione